Nello stand di Star System qui a Tao Sicurezza siamo con Ivano Russo, amministratore Star System. Grande novità quest'anno per voi è il trentesimo, che rappresenta storia già vissuta e storia presente. Sì, ci rincontriamo dopo cinque anni del nostro anniversario e siamo qui a Tao Sicurezza a lanciare un messaggio importante. Si è più grandi, più maturi e l'azienda è chiaramente più solida, più strutturata. La nostra storia conferma proprio questo, la sicurezza e l'innovazione che portiamo avanti sempre a livello non solo regionale, siamo nella nostra terra, nella bella Sicilia, ma da sempre siamo riusciti a esportare questo format regionale poi in tutta Italia. Le nostre 15 filiali nel territorio nazionale dimostrano come la ricetta che presentiamo è una ricetta vincente. Coccoliamo il nostro installatore di fiducia, lo supportiamo nel pre-vendita e nel post-vendita e questo ci permette di garantire una serenità a chi fa questo lavoro, non solo in proposizione economica, ma in un supporto a 360 gradi che permette a chi fa questo mestiere di stare tranquillo. Grande è anche la vostra capacità di visione, di prospettiva e trent'anni sono la dimostrazione di questo. Tra l'altro nell'occhio proprio e nel focalizzare tutto sull'innovazione. Esatto, il nostro mantra è innovazione. Chiaramente il nostro è un mondo che si evolve velocissimo, molto velocemente e l'innovazione oggi ci permette anche di esplorare dei mondi paralleli. Facciamo alcuni esempi. Oggi si parla molto di efficientamento energetico. Questo deve essere controllato e il nostro mondo è la sicurezza, legato poi anche a quello della domotica, permette la gestione dell'utente di una casa nuova, innovativa. Sistemi di riscaldamento, efficientamento energetico, pannelli solari, controllo dei carichi, video sorveglianza, anti-intrusione. Ecco, tutti questi scenari oggi convergono e il nostro compito come distributore è quello di proporre delle soluzioni a 360 gradi proprio per l'installatore. Quindi voi formate, fate crescere e poi seguite il vostro installatore. Sì, è così. È un po' come un bimbo che lo accudiamo, lo accompagniamo con la manina, lui man mano cresce con le sue gambe e poi comincia a camminare da solo. E in questo davvero un plauso a tutti i nostri collaboratori che ogni giorno si spendono molto per l'azienda. Con questo obiettivo non vogliamo soltanto vendere dei prodotti o degli impianti o dei sistemi, ma vogliamo aiutare i nostri installatori standogli accanto, facendogli capire che noi siamo lì, sempre accanto a loro, per guidarli prima che loro fanno un impianto e anche dopo. Benissimo e sottolineiamo ancora una volta, dalla Sicilia in tutta Italia. È così, dalla Sicilia siamo partiti e l'Italia ci ha accolto molto bene.